Quando Martin vedete solo per la città, forse voi penserete dove girando va, solo senza una meta, solo, ma c'è un perché? Aveva una casetta piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Ma un giorno per dispetto, in compacco l'incendio, e a piedi poveretto senza casa lui restò, allora cosa fece? Voi tutti chiederete, ma questa è la sorpresa che il segreto vi dirò. Lui invece è un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. E tante, tante case lui rifece, ma però, quel tale in compacco tutte quante le incendio, allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. Lui invece è un'altra casa piccolina in Canada, con vasche e pesciolini e tanti fiori di lilla, e tutte le ragazze che passavano di là, dicevano che bella la casetta in Canada. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete. Allora cosa fece? Voi tutti lo sapete.